3 match a squadre, capiranno di che pasta siamo fatti. Avanzare e posizionarsi. Stiamo vincendo! 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 Sì! L'avivolo da controspionaggio disponibile. L'avivolo d'attacco pronto. Controspionaggio pronto. Neutralizziamo gli aerei spiani per i versagli. Metto in volo. Le incognizioni aeree in corso. Abbiamo un attacco ardente di supporto. Operazione di controspionaggio aereo concluso. Volo di ricognizione concluso. Ben fatto. Vi meritate un po' di riporto. Ancora. 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 Ancora.